Aperta già da tempo, è stata inaugurata sabato la variante della penna, piccola arteria aviaria che scavalca l'abitato della penna per portare a loro ciuffenna oppure a Terra Nuova Bracciolini. Vediamo le interviste e i contributi realizzati da Annalisa Zampini sull'evento. 20 settembre è il giorno dell'inaugurazione della variante all'abitato della penna nel comune di Terra Nuova Bracciolini. Un'opera importante per la viabilità e la sicurezza del territorio. Si parla di 1.900.000 euro di finanziamenti, 1.400.000 investito dalla provincia, 500.000 euro dal Fondo Nazionale per la Sicurezza Stradale. E' dunque un'opera salutata dai vertici dell'amministrazione provinciale e dai tecnici che qui hanno lavorato costantemente dopo varie soluzioni, interruzioni e ripartenze. Ma oggi questo tratto di strada 900 metri con due rotonde vede il taglio del nastro con il sindaco di Terra Nuova, il presidente della provincia di Arezzo e tanti esponenti anche del mondo economico e produttivo. Sicuramente questo è un intervento importante e serio perché il collega Valdarno, innanzitutto con l'oro ciuffenna, è una viabilità non secondaria. Valdarno aveva bisogno di questa variante oramai da tempo. Devo dire che la realizzazione che inauguriamo oggi ma che già era usata dai cittadini è un ulteriore tassello importante sulla viabilità valdarnese che poi avrà una conclusione con la variante completa della 69. Il più grande intervento in regione toscana dopo la variante di Valico e la ferrovia. Devo dire con grande sofferenza perché il problema degli appalti in Italia va rivisto e lo vediamo perché anche qui in questo intervento iniziato nel 2009 si sono susseguite due imprese. C'è stata una risoluzione del contratto, c'è un contenzioso con la prima. La sofferenza dell'economia del paese, la sofferenza delle aziende si riflette conseguentemente anche sugli appalti e sui lavori pubblici degli enti locali come la provincia. Però poi alla fine con la buona volontà e con una struttura tecnica della provincia che io mi auguro che non venga dispersa perché è una struttura sicuramente molto capace, un servizio di viabilità che ha al proprio interno delle professionalità, un servizio, una struttura di vertice anche perché poi ora non è tanto importante la parte tecnica quanto è importante la parte giuridica che deve entrare dentro ai meccanismi che regolano rapporti fra impresa e pubblica amministrazione. Ma la provincia di Arezzo arriva al confine con la 69 in tempi abbastanza brevi. Un tratto di viabilità interessante per quello che concerne proprio il traffico veicolare da Terra Nuova verso il Prato Magno e che si allaccerà poi a quello che sarà la viabilità più completa con il nuovo ponte, quindi anche una 69 più snella. Sì, assolutamente sì. Questo intervento effettuato dalla provincia è estremamente significativo perché alleggerisce dal traffico la parte più densamente abitata della frazione della penna, quindi era un intervento atteso e finalmente arrivato a compimento. Io ci tengo a ringraziare in particolar modo la provincia di Arezzo per i segnali di attenzione verso il nostro territorio perché si stanno concludendo, si sono concluse due opere estremamente importanti, la nuova variante della penna e poi soprattutto anche il nuovo ponte che anche quello sarà un altro elemento estremamente significativo che alleggerirà un po' il traffico viario. Ancora il percorso non è del tutto compiuto perché manca probabilmente il tratto più importante che è il tratto coste-casello su cui siamo impegnati con il protocollo d'intesa sia con la provincia di Arezzo che con la regione toscana. Sarà un lavoro intenso ma se riuscissimo a portare veramente come ci stiamo impegnando con determinazione a fare a compimento anche quel percorso lì, anche quell'opera lì sicuramente il Val D'Arno ne gioverebbe in maniera estremamente significativa. Assessore Mauro Di Ponte, un'opera che vi ha visto impegnati spesso anche qui su questo tratto di 900 metri perché ci sono state varie peripezie ma alla fine il 20 settembre 2014 è il giorno dell'inaugurazione ufficiale. Sì, finalmente possiamo inaugurare questa importante opera, questa importante arteria stradale che darà respiro alla frazione e permetterà un collegamento più veloce e fruibile per il transito dei veicoli Trenova e Pratomagno, l'oro Pratomagno. Quindi è un'importante valvola di sfogo per la circolazione. Ci tengo a ringraziare tutti i presenti questa mattina qui all'inaugurazione, in primis i cittadini della frazione, del comune, tutti gli intervenuti, tutte le autorità presenti che hanno risposto positivamente all'invito. Quindi questo è importante perché si vede che c'è un'attenzione, una voglia di fare sinergia e squadra a parte di tutte le autorità e gli enti pubblici. E poi l'ultimo ringraziamento in particolare va alla provincia di Arezzo, al presidente Vasai e ai due responsabili tecnici dell'opera, l'ingegner Buffoni che inizialmente va a seguire i lavori e poi dopo l'ingegner Grani. Assessore regionale all'infrastruttura e ai trasporti Vincenzo Ceccarelli, questa mattina salutiamo un'opera importante per il Valdarno, ma di opere in allestimento e in dirittura d'arrivo ce ne sono diverse per la sicurezza. Viaria è per cercare di snellire il traffico sulla regionale 69. È un buon inizio, bisogna continuare e soprattutto che i progetti vadano in porto? Sicuramente sì, credo che queste siano delle belle giornate dove diamo il via a delle realizzazioni importanti e da lungo attese per migliorare la mobilità, per migliorare le infrastrutture della Toscana, in questo caso del Valdarno che è una realtà molto dinamica. È una realtà che ha bisogno di una qualificazione dal punto di vista infrastrutturale sia per le imprese sia per fluidificare il traffico, per mettere in sicurezza delle realtà come in questo caso l'abitato della Penna. Credo che stiamo facendo molto in questo senso, questa mattina questa inaugurazione, ma nelle prossime settimane il primo stralcio della 69, anch'essa una infrastruttura tra le più importanti della Toscana per quanto riguarda la viabilità regionale. Dopodiché siamo impegnati anche per quanto riguarda il trasporto pubblico, sia quello su gomma sia quello su ferro, attraverso gare, attraverso delle contrattazioni per migliorare gli attuali contratti di servizio, per dare quindi una risposta complessiva sia per quanto riguarda il traffico veicolare, ma anche per quanto riguarda il trasporto che più riguarda da vicino i pendolari, quello a punto pubblico su gomma e su ferro. Intanto l'inaugurazione del ponte era prevista per il 30 settembre, slitta di qualche settimana? Sì, la provincia che è stazione appaltante e che io conosco ovviamente molto bene per aver iniziato quelle progettazioni e quegli appalti, ci ha detto che occorrono ancora di nulla osta, che però mi sembra siano questioni di dettaglio più burocratiche che di sostanza, quindi devo dire che invece nel panorama toscano la provincia di Arezzo si è distinta per essere capace di portare a compimento delle opere fondamentali come quelle di cui stiamo parlando. Ok.